Salve a tutti ragazzi, io sono PS64 e oggi siamo su OnkyLED, è un gioco praticamente di zoom, è un gioco bellissimo proprio, quindi io aspetterei che sta caricando. Anche io, mi piace, io lo so, è un gioco, 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 non è riuscito la squadra, ben fatto andiamo raga ma come avete visto nell'episodio come avete visto nel gioco precedente ma si ma qual è quell'altro the other 3 beh quello è uguale però è un poco diverso ok 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 si è completato continuiamo quanto posso dire una carta denaro 200 di denaro ok livello 2 iniziamo iniziamo scappate a raccolta all'area del collo ora eccoci qua ragazzi iniziamo 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 Ma che cazzo è? Ma che è il tank? Ragazzi io domani farò il gioco di Left 4 Dead 2 come mi ha consigliato il cugino Nick Box quindi spero che quel gioco vi piacerà Quanti da finiti? Perfetto E ciò? Si, 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 si No raga ho tolto Corriamo? Oh! 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 Tagliando la testa! Pagliando la testa! E' un po' che è? E' un po' che è? Ogni noi tutti... E' un po' che è? E' un po' che è? E' un po' che è? non avete notato anche voi che l'arma mi è diventata verde scendiamoli il cortello scendiamoli il mio cortello del mio fratello scendiamoli missione complotata eccoci qua ragazzi la mitragliatrice sono andato un poco a shoppare la combattata questa mitragliatrice e che è raffa la scendiamoli 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 ti preoccupare clank cazzo ragazzi spaliamo cazzo ragazzi quando arrivi ragazzi solo questo livello e concludo qua il video ok 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 iscrivetevi al mio canale fate sempre i miei video e quindi io concludo col video se il video vi è piaciuto lasciate col video vi piace e a presto dal posto pizza64 ciao ragazzi